Parte con un punto conquistato a Giovinazzo la seconda stagione consecutiva in Serie B del Futsal. Bicelli è una gara condotta per lunghi tratti dai nero-azzurri, ma che i padroni di casa hanno saputo condurre per ben due volte, sfruttando al meglio le indecisioni dei ragazzi di Ventura. In casa a Biancoverde si registravano le assenze di Bonvino Montelli per squalifica. Il Futsal Bicelli è privo di cittadini infortunati e di Benedetto squalificato. Parte meglio il Bicelli che ci prova con Angelo Cassanelli prima e pedone poi, ma al terzo uno sfortunato passaggio all'indietro del nevo entrato di Benedetto favorisce il contropiede Giovinazzese che De Palma concretizza in gol. Gli ospiti rispondono subito con lo stesso di Benedetto, ma di capo si supera il quinto, il predominio territoriale nettamente in favore dei Bicegliesi, ma l'M di Benedetto perdono l'attimo giusto per impattare sul pallone. Al nono il Pari sembra cosa fatta, ma Binetti respinge sulla linea di porta. A di capo ha battuto il tentativo di Lemme. Passano un paio di minuti e per l'ennesima volta di capo è costretto a fare il miracolo sul nuovo tentativo di Lemme. Il meritato Pari giunge al quindicesimo con Di Benedetto che si riscatta con diagonale in torsione, che bacia il palo e termina in gol. Al diciottesimo grande giocata da banda sinistra di De Cillis, il cui tocco morbido per una frazione di secondo non trova pronto l'appuntamento Lemme. A 30 secondi da riposo la Beff assume le sembianze di un calcio di punizione che Marzella realizza, complice la determinante deviazione in barriera di De Cillis. La ripresa parte subito con il Pari Bicegliesi realizzato da Perreira, che al terzo fulmina di capo ha con un diagonale tanto potente quanto preciso. Il Bicegliesi fa la partita, i padroni di casa replicano in contropiede, il tema tattico è evidente. I tentativi di Cassanelli e Ferreira vengono disinnescati dalla retroguardia bianco-verde. Al tredicesimo sembra fatta, ma di capo a comprare l'ennesimo miracolo sull'M. Passano appena 10 secondi e Cassanelli coglie il palo esterno in superiorità numerica. Nel finale Binetti sfiora il gol del clamoroso 3-2, Masqueo chiude da campione a 20 secondi dalla sirena. L'occasione della vita capita sui piedi di Pedone, ma il suo tentativo viene chiuso da Murante. Gara che termina sul 2-2. Bicegliesi che sabato esordirà al Paladolmen contro una Sala Marcianice, inaspettatamente sconfitto in cassa dalla partena poi per 3-5.